L'acrobazia circense di Adamo per l'inzuccata vincente di Donna Rumma regala la vetta al Cesena, che grazie alla connexion tra i suoi binari di corsia espugna 1-0 il campo dell'Entella nel recupero e raggiunge in classifica quota 30 la Torres al primo posto, distanziando di Selunghezzi il Perugia. E sempre nel recupero del girone B di Serie C vince anche il Rimini che viola al novantesimo il Piola di Bercelli, nello scontro salvezza con il Sestri Levante, con una rete tutta made in Umbria, assist del Trestinese Capanni, finalizzazione del Ternano Ubaldi, una sconfitta che comporta nuovamente la zona play-out per i Liguri, attesi domenica alle 16.15 alla sfida del Barbetti con il Gubbio. Il tecnico Barilari non avrà a disposizione l'appiedato Candiano e nel suo 4-3 ibrido possibile turnover nei reparti, soprattutto in attacco dove può giocare dal primo minuto l'eclettico esterno Scuola Milan-Gala, con Margiotta ed uno tra Busatto-Otoci, con possibile turno di riposo per Forte. In mediana verso la conferma l'ex Raggio Garibaldi, mentre in difesa difficile il recupero di Ogliana. Il Gubbio invece, dopo la sconfitta nel derby, è chiamato a migliorare la nona piazza e i suoi 17 punti in classifica dinanzi al proprio pubblico. Braglia dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1, con Vettorelli in porta. Difesa formata da Pirrello, Signorini e Portanova. A destra Scalpita Frey, che può scalzare Morelli e Corsinelli con Mercadante a sinistra, mentre al centro del campo può tornare dal primo minuto Casolari, assieme a uno tra Rosaia o Bulevardi. Pochi dubbi in attacco, con Di Massimo e Spina a supporto di Udo. Braglia pensa anche al 4-2-3-1 come alternativa sul tema, ma il tecnico Maremmano deve fare i conti con l'assenza di mercati per squalifica in mediana, dove va verso il forfè anche Chierico per una piccola distorsione al ginocchio. In attacco invece, oltre al lungo degente Galeandro, non è disponibile Montevago. In campo da titolare con l'Under 20 azzurra nella vittoria per 3-0 sull'Inghilterra, con traversa colpita dal centravanti Rosso Blu, che giocherà nuovamente lunedì a Sassuolo contro il Portogallo. Ma indipendentemente da chi scenderà in campo meno, il Gubbio è chiamato a far risultato pieno contro i Corsari Liguri per ripartire di slancio in classifica, come dichiarato anche dal laterale Rosso Blu Daniel Frey, ospite nell'ultima puntata di fuorigioco. Ogni partita va affrontata nella stessa maniera, nel senso che se giochi contro il Sestri Levante o il Cesena deve esserci lo stesso entusiasmo, la stessa cattiveria, la stessa attenzione in tutte le partite. Sicuramente la partita contro il Sestri, dato il momento negativo che abbiamo, che stiamo subendo, dovrà essere più perfetta possibile, diciamo, sotto tutti i punti di vista. Non ci possiamo permettere distrazioni o episodi mancati, bisogna cercare di sfruttare tutto quello che ci sarà il meglio possibile per portare a casa i tre punti, perché poi del resto nessuno si ricorda, bisogna vincere. È una partita importantissima per tutto quanto, per l'umore, per la classifica, per i tifosi, per tutto, quindi sicuramente non è da sottovalutare l'attenzione, bisogna dare la giusta importanza a questa partita che è importantissima.